Dio, grazie al amore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e visibili. E lo so, shock, love, Gesù, Cmidi, Ritieli, dio, nato d'un padre, divano di Rate, Dio, 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 Dio. Dio, 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 Dio. Dio, 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 Dio. Dio, 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 Dio. Dio, 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 Dio. Dio, 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 Dio. Dio, 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 Dio. Dio, 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 Dio. Dio, 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 Dio. E appena rispondere alle fedele, la Chiesa sia con il senso innalzato sui poveri, con il quale gli stessi figli di Dio si raccolgono in un tono. Perché tutti coloro che in ogni parte del mondo sono ritme della giustizia, della nuovezza e della prosecuzione, possano trovare solidarietà e difesa dei loro diritti e della loro dignità. Previate. Perché le nostre famiglie prendono il cuore, il suo promore vincere ogni forma di egoismi e supera ogni divisione. Previate. Perché le nostre comunità siano essenziali stabiliti per un senso in un modo dove tutti possano sentirsi amati, perdonati e malattrati a vivere secondo la vita buona del San Gelo e gli altri. Per tutti i nostri fratelli iscritti al suo spazio comunitario è per il momento che nel loro continuaggio di bene hanno lanciato tutti con l'amore ai nostri fratelli più bisogno di oggi, da dei sessi con ai grandi comprensioni del Cielo e del Pianco. No, 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 no. No, 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 no. Per il fratelli che in questi giorni sono trovati dagli effetti segurosi degli altri fratelli, della guerra. perché nel Signore provino la loro forza morale per continuare a capire i miei materi che in questo senso stante sono ritornati nella casa del padre perché gli alunni dicevano con orazione e perdono preghiamo Dio e i miei amici di voi, oltre il tuo soccorso della tua presa e a questa umanità veniva da accettare e sanno i miei cuori e fa che tutti possano vedere la tua salvezza perché il suo nostro Signore guarda questa speranza guarda la vostra Signore tutto quello che io siamo per unirci a te la nostra vita 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 il suo nostro numero Amén. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. 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 Non so dovremmo con questa vita rendere anche sempre i nomi di voto, perché il Signore è il Padre Tante. E con il tuo Spirito. Nella tua misericordia ai Pagano, Amato con il Vomini. Dambandare il tuo Spirito. Come l'Ereo è il suo Spirito. O di più che questo. Oppure che è il nostro Padre. La nostra condizione romana. Tu, così hai amato noi. Ciò che tu. Amato con il nostro Spirito. e lui, se può venire, ha riconosciuto tante altre cose, distrutta dalla misoglietta del peccato. Per questo, con il suo figlio di San Vese, lì in Pianco di Vecchia di Sanche, Sant'Avorto Rosso, lì non c'è la tua morte, San Vosanto, San Vosanto del Signore, Vivo nel universo, i piedi della terra, sono piedi della gloria, Hosanna, Hosanna, Hosanna del alto che chiedi, Vivo nel mondo del Signore, dietro della terra, Vivo nel mondo del Signore, Sant'Avorto Brintoso, è spirito, è greta, viva in Diskussione, oteoposache, non c'è la mia a città, è unui figlio, però è iniz constitutes meno le gloria, diverse, e il Padre e il Padre scegati, lo sceglievo di Gesù e di Gesù e di Gesù, prendete e mandate l'aiuto, questo giudizio corretto, offrendo il Sacro di Cristo per voi. Dopo per finire la processione, il Padre e il Padre sceglievo di Gesù e di Gesù e di Gesù, prendete e mandate l'aiuto, questo giudizio corretto, il mio San Suolo per la nuova re e terra degli avanti, del Sacro per voi e ieri e ieri e ieri e ieri e ieri e ieri e ieri. Fate questo in memoria di me. Grazie. 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 preghiamo oh padre che c'è in mio figlio con questo sacramento raccordo la parola dell'unica delle bellezze il memoriale del Cristo e il mio figlio che ha comandato di segreare e di vicente nel mondo del tuo amore per il nostro signore e di sera abbiamo dichiato il mio figlio per la sua identità di parte di vita di questa continuerà questa serie che manda di voi sarà la ricorrenza di questo momento che è il mio figlio di Santa Elisabella tra le altre cose si è distinta per la sua carità ai code che non si è abbandonati e ammalati del suo principale e questo deve servire a noi come esempio come esempio il stimolo sarà posto tra i piedi e dal mare il cesto per le racconte di quelli viventi che potranno essere potranno essere qui a coloro che ne hanno il sogno questo lo parla la carina con i lecce soffie quindi soffie perché ci siamo stati a parte di il il signore sia con voi con noi amén 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 amén